Ciao a tutti, vi vorrei far vedere oggi una selezione di kava kava, estratto di kava kava che ho preso al mio negozio online di erbe e abbiamo qui tre forme di kava kava, di estratto di kava kava e le ho prese appositamente per tre utilizzi e situazioni differenti questa è una tintura, ovvero un estratto, una soluzione in alcool che è facile da portare, facile da dosare, quindi si può utilizzare quando si va in giro quindi è molto comoda, più della polvere ed è più concentrata perché è un estratto questa è una kava kava in polvere al 30% utilizzo questa specialmente in situazioni in cui ho un'intervista, un colloquio di lavoro o cose del genere, quindi situazioni temporanee, particolari di stress però in cui non ho bisogno di essere, di avere qualcosa di eccessivamente sedante perché comunque ho bisogno di stare concentrata uso questo perché appunto mi fa rilassare, ha un effetto sedante, ansiolitico, antidepressivo perché il kava kava ha anche proprietà euforizzanti e non è eccessivamente forte, eccessivamente sedante quindi posso comunque continuare la giornata e concentrarmi in tutto quindi questo è per quelle occasioni e poi ho trovato, questa volta quando sono andata a comprare le mie piccole erbe sulla rete ho trovato questo questo è un estratto di kava kava 70% di kava lattoni come potete vedere da qua e che significa? i kava lattoni sono il principio attivo del kava kava quindi la parte che fa appunto del kava kava da appunto al kava kava questo effetto sedante, euforico, rilassante e questo avendo 70% di kava lattoni chiaramente è un estratto molto molto concentrato e molto molto efficace quindi ne basta veramente pochissimo per avere un effetto altamente sedante antidepressivo per problemi di insonnia quindi per periodi di lungo stress quindi quando ho molto lavoro e mi stanco molto però non riesco comunque a dormire bene faccio un periodo, un ciclo di alcuni giorni con questo, con questo kava lattone al 70% e questo mi rimette assolutamente in piedi insomma mi toglie lo stress mi fa dormire meglio ed è assolutamente efficace quindi tutte e tre le forme avevo bisogno di tutte e tre le forme di kava kava appunto per utilizzi diversi però chiaramente per diverse persone insomma c'è bisogno di un'intensità diversa se volete provare lo si trova non si trova dappertutto ma in alcuni negozi online si trovano spero che vi sia risultato interessante questo video se avete qualsiasi domanda avete bisogno di informazioni, contatti qualsiasi cosa sono felicissima di fare una chiacchierata mi potete contattare trovate il mio contatto whatsapp nella descrizione del video vi ringrazio tanto vi auguro una buona giornata ciao 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 ciao